Tocca anche il numero 8 della squadra di casa, attenzione alla conclusione, la deviazione e poi in qualche modo si salva Calcaro Seferi Calcaro la para, Seferi ancora in possesso, il tacco d'anverso ancora Calcaro e poi la blocca sulla linea, che parata Apri bene per Fraccucci, la porta sul destro Fraccucci, poi Tonetto carica il sinistro, Corso nega la rete Guarda, Grinta è a disposizione in campo, occhio a Blendino che prova ad andare, super intervento di Corso, allevare il poker al coppia Respinto, occhio al contropiede, dell'anno può partire, Tombesi in copertura, in mezzo c'è anche Polito, pallone per lui Vai del proposto, una parata straordinaria sull'è piazzato di Polito Ehi, è da Saccarino, riesce comunque a filtrare il pallone, Volpi, ma là dentro per Croce, che controlla, si gira Molon Parata strepitosa del numero 1 che salva il risultato Parte ora il numero 99 con il destro in porta e Santarelli, devia in corner Parata strepitosa del numero 1 che salva il genere, Con infrastrutt cros sobre le